Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. In direzione mare, per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sulla A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!